Chiudiamo un attimo Daylight, entriamo direttamente nella sua cartella e se hai la cartella del Steam Settings vai su Force Language, questo qua, da English metti Italian. Se il tuo pacchetto supporta così tutte queste lingue, come puoi vedere, supporta lingua inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, coreano, polacco, quindi quello che c'è stata da fare è da English mettere Italian, fai salva, salvi così il documento Italian, se non te lo fa salvare vuol dire che non sei amministratore, quindi tasto a destra sopra, mostra altre opzioni, proprietà, sicurezza, modifica, questo sono io, faccio consenti, stessa cosa anche con questo e faccio applica. Aggiungi, devi aggiungere così il tuo account Microsoft, vai su avanzate, vai su trova, scendi fino a giù fino a mettere utenti, Tony, Game 17, questo sono io. Clicco sopra e faccio ok e mi sono inserito. E sono amministratore di questa cartella. Come puoi vedere l'interfaccia è in italiano, quindi questo gioco è un'opera di fantasy, scopio esclusivamente artistici e di intrattenimento, continua. È tutto in italiano, l'interfaccia, ovviamente è solo l'interfaccia in italiano, premi un pulsante per iniziare. Quindi, se questo video è stato utilissimo su come cambiare la lingua Daylight 2, per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!